Bain Sports, uno dei principali network asiatici sullo sport e sul calcio, ma anche uno dei principali a livello mondiale ed infatti è il broadcaster delle competizioni UEFA in molti paesi, nella serata di ieri 23 gennaio ha pubblicato un tweet che è passato molto in secondo piano. È un tweet in lingua araba, quindi chiaramente era difficile che colpisse l'attenzione e che se ne parlasse in Italia. Ma riguarda la Juventus, ci riguarda da vicino, anche se si tratta di una fonte piuttosto lontana. Il tweet è questo e la traduzione di Google ci aiuta nella lettura. La nuova amministrazione bianconera sta valutando di chiudere il rapporto con Allegri. Fonti vicine alla Juventus hanno confermato a Bain Sports che la nuova dirigenza del club della famiglia Agnelli ha iniziato a valutare attivamente la ricerca di soluzioni per chiudere il rapporto con l'allenatore Massimiliano Allegri. Quindi che cosa capiamo? Che la nuova dirigenza sta cercando di capire come separarsi da Allegri. Il che, se vogliamo, è già una notizia clamorosa, perché fino a questo momento c'è stato sempre detto, dalle fonti interne, che Allegri non si muove, non schioda in nessun modo, anche perché nessuno sta pensando di mandarlo via. Ricordate i giorni burrascosi di novembre con l'eliminazione dalla Champions League? Haifa, per esempio? Anche in quel caso si è detto Allegri in questo momento non rischia assolutamente. E i media italiani, in particolare i giornali, rimarcavano quanto sarebbe costato esonerare Allegri. Cioè il costo del suo stipendio, lordo, ma anche quello di tutto il suo staff, da versare a prescindere dal costo del nuovo allenatore. E in realtà il costo delle esonere di Allegri non è esattamente quello che devi riconoscere ad Allegri da contratto in caso di esonero, ma quello che devi dare al nuovo allenatore, al nuovo staff, perché quello che devi dare ad Allegri è già a bilancio come debito. Ed infatti è facile ricordare le parole di Arrivabene a Torino, ad un tifoso, proprio dopo un pranzo UEFA. Lo paghi te quello che viene dopo? Ecco, in Italia il contesto è questo. Mago Max, Allegri è il miglior manager del momento per la Juventus con il caos attuale. Allegri è un grandissimo allenatore, tanti elogi, tanta esaltazione, non giustificata dal gioco, ma nessuno che parla di ipotesi di separazione. Nessuno, ripeto, che ci ha mai detto che la dirigenza stesse anche solo pensando di separarsi da Allegri. Invece qui leggiamo, ripeto, da una fonte assolutamente attendibile, nel senso che Bainsports non è l'ultimo media, l'ultimo network che è sbucato dietro l'angolo all'improvviso, che, secondo fonti vicine alla Juventus, che sono state appunto contattate dal network, la Juve, la nuova dirigenza, sta pensando di mandare via Allegri. Per la precisione ha iniziato a valutare attivamente le soluzioni per chiudere il rapporto. Quindi sembra quasi, a volerla tradurre in termini pratici, che la nuova dirigenza sta cercando di capire, anche a livello legale, contrattuale, come ci si può separare da Allegri, come si può fare a esonerarlo nei prossimi mesi. Nei prossimi mesi, nel senso che questo tweet, questa notizia, che non è approfondita oltre quello che possiamo leggere in questo caso, non ci dice se si parla di queste settimane, nel corso di questa stagione, oppure a partire da giugno, al termine della stessa. Ma resta una notizia clamorosa, che, ripeto, però, fino a questo momento in Italia non è stata riportata, non gli è stata data particolare attenzione, eppure, attenzione, la meriterebbe, perché non stiamo parlando di un giornale a caso. Ecco, ma che giornale è? Che media è? Che testata è Beansports? Beansports è di Nasser Al-Khelaifi, che è anche il presidente ECA, che ha sostituito Agnelli, grande amico di Ceferin e presidente del Paris Saint-Germain. Quindi si potrebbe anche ipotizzare una strategia di destabilizzazione dell'ambiente dall'esterno per mettere in crisi, magari, la situazione della Juventus più di quella che è, con una notizia che, però, in realtà è priva di fondamento. O comunque, si può anche dubitare del fondamento di questa notizia. L'ha detto Beansports, non l'ha detto nessun altro, lo dicono da così lontano, mentre così vicino si dice tutt'altro. Le interpretazioni possono essere le più svariate. Fatto sta che qualcuno, per la prima volta, ha scritto che, per la prima volta, la nuova dirigenza della Juventus sta pensando all'Allegri Out. E potrebbe anche essere soltanto il primo passo di una situazione che prenderà piede più avanti, con conferme rispetto a questa notizia. C'è solo da attendere, anche se siamo liberi per il momento di dubitare. Grazie.